Angela è il mio nome. Di giorno sono una donna come altre, di notte sono una puttana come tante. Questa è la storia della mia vita. So che c'è differenza tra giusto e sbagliato, ma dentro di me, entrambe, sono parole morte da un pezzo. Ieri ho comprato un televisore al plasma. Ho fatto delle buste paiva false per averlo. Per pagarlo, incomoderate. Coni rei. Interno 4. Bite parallele. Anno 2023. Vamos, Marco. Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History. Welcome to Radio Giano Public History. Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History. Welcome to Radio Giano. Feel free. Amici e amiche di Radio Giano Public History, benvenuti a questo nuovo episodio di vite parallele e della vostra Katia e Simone e da Marco Lodi alla regia. Quest'oggi dialogheremo con Enrico Pagliasso, in arte, con i rei, regista, performer, poeta, attore, anche fonico abbiamo appreso da poco, e Pasoliniano Doc. Parleremo con lui di varie eventuali poesie, libri, ma soprattutto del suo libro di poesia, interno 4. Però prima di cominciare l'intervista, come di consuetudine, facciamo il primo stacco musicale con Green ST, Noctural Spirits. Vamos, Marco. Bene, rieccoci a vite parallele, Katia e Simone con i rei, interno 4. Allora, con i rei, buonasera. Buonasera a te, Katia e Simone. Un saluto agli ascoltatori di Radio Giano Public History e agli ascoltatori del tuo programma Vite Parallele. Grazie. Allora, con i rei, ma tu chi sei davvero e perché hai scelto questo nome d'arte? Io sono con i rei, al secolo Enrico Pagliasso, però ho deciso in una mattina del marzo del 97 di darmi uno pseudonimo. Anche perché mi interessava, nel momento in cui poi avrei pubblicato qualcosa, che un libro avesse un suo nome. Non mi interessava apparire con il mio nome e cognome al secolo. E poi anche perché in quel periodo lì, per molto tempo, ho letto, ho studiato, ho fatto delle mie cerche sul movimento underground della pop art e quindi sono entrato in questo mondo di Andy Warhol, della Silver Factory, di Velvet Underground, quindi Lou Reed, John Cale e altre cose. E quindi, diciamo che entrando in questo mondo, questo mi ha portato anche a darmi questo nome d'arte. Tra l'altro, aggiungo anche che mi hanno ispirato i nomi di alcuni artisti della street art, tipo Lex, Stan ed altri. Quindi, folgorato sulla via di Andy Warhol, diciamo. Più che altro, più che folgorato, affascinato. Eh, non so. Tanta roba, tanta roba quella Factory. Tanta roba. Ascolta, Coni, invece, quando sei entrato nel mondo della poesia, è perché? Cioè, è qualcosa che ti affascinava, che ti è piaciuta fin da bambino o c'è stato un momento particolare nel quale hai colto la poesia? Ma io ho iniziato a scrivere versi in forma di testo di canzone, quindi di lirica, nell'età adolescenziale. Ho iniziato anche a comporre dei miei brani, delle mie canzoni. E poi, a un certo punto, nel 97, ho deciso di dedicarmi alla poesia. Però, cercando di, come dire, di lavorare sul mio stile, sul mio modo anche di intendere e fare poesia. E da qui è nata l'idea di Interno 4, cioè di un poimetto in chiave moderna che è stato pensato, immaginato, ideato come un film da leggere e vedere tra i versi. Anche perché spesso il cinema ha attinto dalla letteratura, dalla narrativa, e quindi ho tentato di fare un'operazione al contrario. E quindi è nato così Interno 4. Certo, a proposito di cinema, poi ci addentreremo, insomma, in questo bellissimo libro. Queste poesie che tu chiami liriche, mi hai detto. Sì, le chiamo liriche. Le chiamo liriche in Interno 4, appunto un film da leggere bene tra i versi. Interno 4 è un film a episodi. I titoli delle ririche sono diventati a pieno titolo i titoli dei vari episodi che compongono l'opera. Quindi la grafica, tra l'altro, già dalla copertina, ma anche all'interno, che ho curato personalmente, in qualche modo catapulta il lettore in una sala di un cinema. Quindi una sala buia, davanti a uno schermo, grande. E quindi diciamo che il lettore, per magia, diventa uno spettatore. È vero, sembrano quasi degli ingressi i titoli dei capitoli, con i quali hai diviso, insomma, questo libro. Sì, più che dei capitoli, appunto delle niriche, o meglio, di questi monologhi più o meno ulteriori, dei vari personaggi, tra cui il personaggio principale è appunto un poeta. In questa opera c'è, da un lato, c'è fantastica rile letteraria, diciamo anche autobiografico per certi aspetti, un po' diciamo che i vari personaggi che costellano Interno 4 sono delle maschere di vari tipi di disagi e di inadeguatezze costanti nel vivere. E c'è, diciamo, in qualche caso anche un po' di me. Però ecco, mi preme dire che con questo libro ho cercato di dare voce a delle persone che ho realmente conosciuto e che a pieno titolo sono diventati personaggi di Interno 4, di questo film da leggere e vedere tra i versi. Certo, ascolta, a proposito di cinema, Cone, tu mi hai raccontato, e ci siamo conosciuti ovviamente prima dell'intervista telefonicamente, mi hai raccontato di questo meraviglioso mondo di Cinecittà, quest'atmosfera che tu hai respirato, se non ricordo male, attraverso i racconti di tuo padre. Vuoi raccontarci qualche aneddoto? Sì, sono molto legato al cinema, perché nella mia famiglia mio padre è stato un decoratore e pittore di scena impiegato al reparto scenografia di Cinecittà, allora Cinecittà, stabilimenti cinematografici, quella che fu definita poi da Hollywood sul Tevere. E lui entrò nel 1958, proprio nel momento in cui stavano cominciando a lavorare alle costruzioni sceniche in esterno, soprattutto in esterno, di quello che credo consideriamo un po' tutti il colossal dei colossal, e quindi lui per mio padre per 20 anni ha lavorato per buoni anni al reparto scenografia di Cinecittà e poi il reparto andò a fuoco per un incendio doloso. L'azienda ricollocò mio padre e gli altri colleghi del reparto scenografia di Cinecittà e lui siccome aveva fatto dei studi professionali, tecnici, quindi fu chiamato poi a occuparsi come disegnatore tecnico, per cui realizzava plenimetrie per le costruzioni sceniche in interno e esterno, cioè interno nei teatri di posa, esterno nell'area esterna a Cinecittà, da legare poi a quelli che erano i preventivi richiesti dalle varie società di produzione, italiane e straniere in modo particolare. Anzi, ha pure realizzato la grafica di una copertina di variety, nota rivista, credo settimanale se non esano, perché Cinecittà voleva in qualche modo rilanciarsi e poi ha curato anche, sempre nel periodo dei primi anni 70, appunto quando dal reparto scenografia persò come disegnatore tecnico, curò anche una brochure, Andepriane, che fu presentato a un'edizione del Festival di Cannes, e ha lo scopo anche questo di far capire che Cinecittà era in continuo, diciamo, come dire, ammodernamento, insomma, avevano creato un reparto sviluppo stampa che prima non c'era, quindi il regista poteva avere nel giro di mezz'ora o un'ora già il girato, oggi in film come The Fiction, le serie televisive e anche la pubblicità, insomma, tutto viene girato in digitale, ma allora, insomma, non era possibile farlo prima di allora, e poi avevano ammodernato con nuove tecnologie il reparto doppiaggio. Devo dire anche che, tornando a Interno 4 per un attimo, che proprio nel curare la terza di copertina, premesso che appunto una biografia di Sten, uno degli artisti della Strict Art, mi aveva in qualche modo ispirato a andare a vedere una sua mostra, una sua prima mostra in una galleria nel quartiere di San Lorenzo dove io ho vissuto per alcuni anni, per dieci anni, e vedevo che questa biografia era molto ironica, come a non prendersi troppo sul serio, e quindi mi ha affascinato. Allora, quando si è presentato il momento che dovevo curare la terza di copertina, mi sono ispirato alla biografia di Sten, con quel tono, insomma, nel curare la terza di copertina, ho scoperto che io sono nato nello stesso giorno e mese a distanza di un secolo esatto di uno dei due fratelli Lumière. Quindi, diciamo, che sono legato al cinema a partire dalla mia famiglia, dal lavoro, la figura di mio padre, e da undici anni sono un attore generico, cioè figurazioni, figurazioni speciali, quindi piccoli ruoli, e quindi questo mi ha consentito anche di, come dire, sul campo, rubando con gli occhi, di imparare molte cose che hanno poi portato a produrre un mio primo video di poesia perché così è nato, ma di fatto uno short film di 7 minuti e denti dà il titolo epilogo e prende il titolo e si ispira a dei versi appunto che sono contenuti sulla parte finale del poemetto in interno 4 in questo film da leggere e vedi tre versi. Ecco, queste sono le cose principali che mi legano un po' al cinema. Poi aggiungo anche che abbiamo avuto esempi come Pierpaolo Pasolini, Tony Harrison, poeta inglese, e Derby Jarman solo per fare alcuni nomi che sono stati dei poeti come sappiamo che hanno poi prodotto delle opere cinematografiche. Del resto il poeta cosa fa nel comporre una poesia o una lirica che dir si voglia? Non fa altro che creare immagini, quindi nel mio diciamo tentativo di invertire ruoli, no? Certo. Quindi io mi ispiro al cinema, no? Al contrario il cinema si ispira e si è ispirato spesso a letteratura, a narrativa in modo particolare. Allora, il concetto è che sono arrivato a capire una cosa, che le parole sono altro che i fotogrammi e quindi nella lettura di fatto a prescindere da Interno 4 da questo tentativo di trasformare un poimetto in un film da legge tra i versi grazie all'osilio e all'aiuto anche della grafica di fatto un lettore diventa uno spettatore nel momento in cui legge della poesia quindi io credo fermamente in questo e credo che un poeta sia la persona tra le meglio preposte per fare dell'ottimo cinema e ripeto i nomi che ho menzionato Pasolini Tony Edison con un film dal titolo Prometheus che probabilmente è ispirato a questa figura mitologica però catapultata in una fabbrica inglese oppure non so Derek Jarman che ha realizzato un film molto bello di Ray Calt e Caravaggio e poi aggiungo anche un'ultima cosa sull'argomento per avvalorare questa diciamo mia tesi Vachel Linsday fu un visionario un poeta statunitense che nel 1915 una prima stesura e successivamente un'edizione ha cresciuto più a profondità del 22 pubblica un libro che tra l'altro è stato pubblicato tradotto anche in Italia qualche anno fa una nota caseterice dal titolo L'arte del film questo poeta che è stato anche diciamo un poeta che ha illuminato moltissimo i poeti del movimento della big generation quindi i vari Kerouac Gisberg eccetera lui appunto si è occupato di cinema credo forse non a caso non ha realizzato dei film però ha prodotto questo saggio che ho trovato molto 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 interessante di cui consiglio la lettura certo oltre che vedere il canovaggio di Derek Jarman Prometheus di Tony Harrison e ovviamente Pasolini insomma chi non l'ha ancora visto lo consiglio vivamente certo certo Enrico insomma Pasolini è nato Pierpaolo Pasolini ecco voglio dire certe personalità nascono proprio così e volevo chiederti secondo te Federico Fellini è stato anche lui un poeta del cinema lui è stato a mio avviso lo dico con umiltà è stato un sognatore e a modo suo un poeta assolutamente sì credo che oggi qualsiasi regista italiano dalla diciamo quando viene accolto in qualche festival soprattutto all'estero in modo particolare all'estero viene accolto con una certa simpatia con un certo affetto perché ancora oggi ha detta di amici che si occupano di cinema di registi che ho conosciuto insomma come dire il nome di Federico Fellini diventa una garanzia e quindi diventa anche un richiamo alla grandezza del cinema italiano e quindi vengono accolti i nuovi autori e non solo ovviamente i nuovi autori magari i registi già fermati con un certo veramente attenzione e affetto perché abbiamo avuto registi come nel caso di Federico Fellini che hanno come dire fatto innamorare tutto il mondo di un certo modo di fare cinema di intendere cinema che è stato prodotto in Italia insomma assolutamente allora io farei la seconda pausa beviamo un sorso d'acqua con I wanna parking size vamos Marco Radio Giano Public History la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura da 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 feels like the first time throw away all my pride eccoci rientrato in studio dopo queste note su a denti da roma conerei da bardonino caccia simone vite parallele allora con i rei caro william falkner diceva che la poesia è la storia del mondo su una capocchia di spillo vuoi leggerci due liriche da questi o anzi due fotogrammi da questo film di parole che hai prodotto si volentieri ho scelto per l'occasione due liriche o meglio due episodi da all'interno 4 da questo film della gelvedere tra i diversi la situazione il poeta parte numero 4 ok sotto l'insegna di un albergo d'ore uno sguardo complice di un travestimento mi sorride ambiguo all'angolo della strada all'angolo del vizio so che non è scelta in tutto questo siamo tutti in coda per caronte nella sera che lascia il passo a una improbabile note il magrebbe marginato colora di nero il caos di città l'hanno inchiodato al palo di un semaforo come un cristo senza pietà né perdono so che non è scelta in tutto questo siamo tutti in coda per caronte senza scelta né via d'uscita nella metropoli distratta muoio in una sigaretta sono vivo solo nel respiro e la mente ubriaca di immagini inquinate un pensiero poi si è d'accanto ai loro margini un altro di rabbia danza ogni solito minuetto a turno danza nel silenzio dell'indifferenza già mi dico nel silenzio dell'indifferenza luce e rumori si perdono confusi e continui nella notte che sfrutta che è violenta che cancella tracce di crimini visibili sulle strade come altari dell'estremo sacrificio terra ormai non più promesse in coda per caronte non c'è via di scampo e muoio in un'altra sigaretta e nel suo sorriso ambiguo non più così diverso dal mio in coda per caronte muoio in un'altra sigaretta ancora e negli occhi del maghreb non più così lontano da me ed io sono solo vivo nel respiro poiché l'uomo che vive ne muore nella notte tra i loro passi senza scelta ma è l'altra mai mai che ho scelto sul finale di interno 4 del film da leggere bene tra i versi epilogo quante volte sarò a disagio per la forza di cui manco e quante altre sulla distanza mi smonterà in un minuto e mezzo quante volte mi annullerò nei miei occhi di whisky e ghiaccio prima di sciogliermi come plastica nel fuoco che ho dentro e quante altre mi sentirò un nano nell'immensità delle parole quante volte sarò pietra lungo un fiume di seta e quante altre mi vorrai a cercare sapendo che la vita è un bene prezioso quante volte griderò al vento mute parole d'amore e quante altre sparirò cieco nel buio di un ambiguo silenzio che porto dentro in eterno e nella durata eternità di un verso quante volte sarà grandioso essere tutto ciò che non si è e quante altre sarà grandioso essere tutto ciò che non si è più bellissima bravissimo coni davvero complimenti veramente c'è tanta intensità e quanta roma c'è in questo film ma in questo film da leggere vede traversi in interno 4 intanto la gelesi il libro l'auta nella comporre nel quartiere san lorenzo dove ho abitato per dieci anni a partire dall'agosto del 97 fino agosto del 2007 ci sono voluti dieci anni per arrivare poi a montare perché io letteralmente montato questo questo mio poemetto perché nel corso di questi 10 anni fatti non solo di creatività ma di vita personale i lavori di cose private insomma di cose che andavano non andavano insomma quello che è la vita insomma sono appunto arrivato a ad avere del materiale un po come un regista no ci sta sul set per fa delle riprese fa i campi contro campi le quinte i totali i primissimi piani i primi piani insomma il magazzino avevo delle cose che ho composto e quindi da lì poi è nata l'idea del film da leggere vede tra i versi vorrei anche dire una cosa che appunto personaggio principale come dicevo poco fa è un poeta non a caso gli altri personaggi che costellano la realtà notturna di una città che si può essere roma ma può essere new york e può essere sydney perché perché questi personaggi rappresentano nel loro loro disagio la loro inadeguatezza qualcosa di universale qualcosa una metropoli comunque la solitudine si metropoli ovviamente il non indicare la città in questo mi ha ispirato ed è calo un po quindi non è un caso che non abbia indicato la città certo è che le persone che ho conosciuto e che poi sono diventate di fatto appena titolo i personaggi di interno 4 del film da leggere vede tra i versi sono persone che io ho conosciuto nel quartiere san lorenzo in zone limitrofe per roma insomma considera che io avevo una mia occupazione ma poi non avendo obblighi familiari o altro avevo tutto il tempo a disposizione quindi spesso quartieri tornavo molto tardi la notte e nel girovagare nella città mi sono abbattuto in varie realtà insomma e questo anzi raggiungo che questa umanità è una fonte inesauribile per un scrittore per un poeta assolutamente e la cosa che mi è sempre diciamo interessato in modo particolare che questo libro fosse un momento di riflessione esattamente come quando si vede un buon film e questo film in qualche modo porta allo spettatore a riflettere su alcune tematiche a riflettere su in questo caso sugli ultimi della società visto che poi nella nostra contemporaneità purtroppo sembra che ci si occupi degli ultimi ma non è in maniera a mio avviso adeguata non lavorando con tutte le energie perché ogni persona abbia si rispetti la dignità di ogni persona ormai gli ultimi danno fastidio enrico dai ma sembra quasi che diano fastidio io sono non sono pessimista sono realista il fatto lo vediamo anche in questo nostro tempo a 2.0 lo vediamo anche nel nostro paese lo vediamo anche altrove c'è il mondo viaggia talmente in velocità che sembra non abbia più tempo per altre cose quindi benvenga un libro benvenga la poesia benvenga il cinema benvenga tutte quelle forme d'arte che possono in qualche modo come dire portare ogni persona ne vedo a ragionare su alcune tematiche perché perché sono temi che ci riguardano tutti non riguardano solo le persone che soffrono una certa condizione sociale certo 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 e sull'umanità diurna ti piacerebbe fare un altro film in versi perché anche di giorno insomma c'è una bella fauna ma all'interno 4 nell'episodio home sweet homeless che è un episodio nel quale il poeta racconta un po dei suoi ricordi una memoria di tre homeless beh uno o due di questi tre li ho anzi tutte tre uno avevo soprannoneato lord byron perché girava con una sorta di frac con un carrello della spesa rubato sicuramente un supermercato chicca la nana che era una donna una signora della certa età nana che viveva sui cartoni e poi una mattina uscendo da da casa insomma dove abitavo a san lorenzo a un certo punto mi sono trovato di fronte una persona completamente bendata bendata in tutto il corpo che si dimenava sembrava una mummia vivente qualcosa insomma praticamente in interno 4 ci sono già delle cose che io ho attinto anche durante il giorno non dei miei progetti già una volta pubblicato tra l'altro colpa un'occasione tanto però una certa emozione perché proprio nel mese di ottobre 15 anni fa fu pubblicato fu presentato per la prima volta in interno 4 in una libreria di san lorenzo perché appunto in interno 4 è stato composto ho pensato ideato nel quartiere san lorenzo la libreria fuori le mura insomma è un adolescente questo libro sì è un adolescente e mi fa piacere che ci sia ancora qualcuno curioso di capire un po' il senso di questo libro eventuali significati del libro quindi l'emozione è molto particolare oggi per me per quanto riguarda il terno 4 il terno 4 è nato per essere l'unica cosa che io ho pubblicato e pubblicherò non è nei miei piani già da molti anni pubblicare altre cose lo faccio però quando e ciò non significa che perché io non pubblico un libro non non componga non ho composto diverse cose insomma e da qualche tempo da qualche anno ormai attraverso la piattaforma del social network facebook io periodicamente insomma pubblico dei miei versi con tanto copyright partecipo anche attivamente delle letture pubbliche magari dando precedenza all'interno 4 e perché no aggiungendo magari nella mia scaletta anche qualcosa di inedito quando altre cose che svolgo da svariato tempo anche organizzare eventi di poesia sul roma dove cerco di dare visibilità a poeti che non hanno niente di meno rispetto ad altri poeti diciamo più o meno accademici che hanno maggiore visibilità anzi da dal 97 in poi da quando ho cominciato a frequentare un pub a San Lorenzo dove si tenevano le letture e non sembrava di stare a San Lorenzo ma sembrava di stare a Greenwich a New York è bello l'atmosfera era più o meno così perché poi sono stato più volte a New York per cui insomma come sono stato anche a Berlino quindi frequentando certe situazioni certe cose insomma insomma ho sempre cercato nell'organizzazione di questi eventi in omaggio a Pasolini il più recente il primo novembre si è organizzato un anno prima un evento in collaborazione con il ristorante al Biondo Tevere in via Ostienze un ristorante che tra l'altro frequentava spesso e abitualmente per Paolo Sorosolini durante la sua soggiorno permanenza lunga permanenza nella città di Roma che amava moltissimo e poi ho dedicato per i cento anni a Garbatella a un reading in omaggio a Vitor Cavallo che è stato uno scrittore, un attore, un autore di teatro e anche un poeta e anche lì ho selezionato dei poeti e poetesse che in qualche modo hanno conosciuto che conoscendo i registri già a partire da loro versi potevo immaginare che potrebbero essere persone che meglio potrebbero interpretare i versi di Vitor Cavallo non so, un'ultima cosa chiudendo su questo argomento degli eventi un evento organizzato a sossegna di Erri De Luca è stato il mio evento l'unico di tre eventi a Roma alla vigilia della prima udienza perché nel 2014 a giugno del 2014 Erri De Luca era stato incriminato di aver come dire, in qualche modo incentivato la rivolta dei Notav quindi sei impegnato sei impegnato anche dal punto di vista civile, politico insomma ma io credo io credo che prima del poeta c'è l'uomo comunque un poeta è dei poeti essere sensibili alle cause sociali, nobili fino anche politiche quindi mi piace metterci la faccia quando ci sono delle situazioni in cui bisogna assolutamente esserci la stessa cosa ho fatto appoggiando nel 2012 nel mese di luglio la lotta dei lavoratori di Cinecittà mio padre è mancato nel 96 ma io quando ho appreso la notizia che dal 4 di luglio del 2012 i lavoratori a buona parte su 190 180 erano messi in piedi un presidio di lotta occupazione proprio all'ingresso di Cinecittà civico 1055 io dissi proprio la mia compagna Raffaele dico guarda amore devo andare perché questi ragazzi insomma hanno bisogno e poi perché io ho detto sai insomma come sai vengo da una famiglia dove mio padre ha lavorato lì per vent'anni come faccio a non andare tra l'altro è capitato un momento in cui io ero disoccupato e avevo perso il lavoro e l'ho fatto anche per altre situazioni da disoccupato da precario perché credo che sia importante partecipare attivamente quando ci sono nella vita diciamo di un paese da un punto di vista civile nell'appoggiare delle lotte e sostenerle credo che sia importante credo che sia anche un compito di uso un termine di un intellettuale di uno scrittore fare questo devo dire che anche nella produzione poetica in Italia nel nostro paese nel bel paese come amava chiamarlo Dante Alighieri spesso la poesia è una poesia che è più concentrata su Dio è una poesia che raramente è una poesia civile insomma l'ultimo esempio di poesia civile l'abbiamo avuto con Piet Paolo Pasolini e quindi quando in una società contemporanea a livello diciamo mondiale e poi nel particolare quando nel nostro paese il paese ha già avuto 12 anni più di crisi economica due anni di pandemia come si fa ad essere indifferenti e non parlare di queste cose anche attraverso di una poesia anche tu hai perfettamente ragione io ne conosco tanti di poeti civili il problema Enrico è che sono schiacciati da una mole di promozione editoriale letteraria che promuove un altro tipo di poesia oggi la poesia è diventata anche molto vanità egocentrismo narcisismo prima il nome e poi il tema hai capito? queste sono cose che conosco bene motivo per cui anche di recente di recente proprio in un'occasione pubblica presso una libreria di Roma il Mangia Parole diciamo libreria caffè letterario che da molti anni dal suo nascere quindi è nato pre pandemia questa libreria dà molto spazio autori emergenti eccetera ma tu come dire mi presenti mio fratello cioè nel senso cose che conosco e le conosco anche bene perché già da quando ho mosso i primi pazzi e seppure i miei versi erano in erba a cervi eccetera insomma mi sono preso conto motivo per cui io mi sono autoprodotto con tanto i codici sbn quindi io sono editore di me stesso perché e aggiungo anche perdonami finisco aggiungo anche che io ho imparato anche a gestire il mio ufficio stampa quindi io invito i poeti a essere promotori di loro stessi a essere anche autori editori indipendenti perché io l'ho fatto nel 2008 e all'epoca era una cosa più unica che rara e detto tramite anche se mi è costato 50 euro per 10 barcode di cui non ho utilizzato solo uno e l'isbn io non ci ho pensato due volte a fare questo tipo di operazione anche perché volevo il controllo totale della mia opera e soprattutto avendo visto che spesso e volentieri le piccole e medie casettrici per non parlare poi delle grandi che appunto gli dicono più i nomi importanti diciamo quelli già conosciuti piuttosto che investire su nomi su nuovi autori lì insomma vedere che praticamente le case incassavano soldi da questi autori inediti o la loro prima pubblicazione non curavano poi dopo minimamente né la produzione né la distribuzione in maniera come dire adeguata anzi ma questa è una realtà Enrico allora io nella mia vita sono stato un promotore vendita seppure un altro settore e per diversi anni e quindi ho detto bene a questo punto mi formo mi formerò per diventare editore no però sono già comunque promotore e poi un mio carissimo amico Edward Bartolucci che era ed è tuttora un validissimo addetto stampa con numerose esperienze in questo senso mi è stato di aiuto perché mi ha insegnato a redigere un comunicato stampa quindi tutto quello che direi produce ha prodotto i 25 anni soprattutto dal 2008 in poi dall'interno 4 in poi ho cercato di promuovere al meglio al massimo quindi stavendo un contatto con le redazioni certo con non so su Roma il Trova Roma di Repubblica eccetera insomma va bene e tra l'altro questa cosa è stata anche bella non solo per me per i progetti che mi coinvolgono a me come persona appunto no la cosa bella è stata mettere a servizio queste cose per altri artisti e non da ultimo per i poeti che io ho invitato in alcune occasioni negli eventi che ho organizzato perché insomma credo che bisogna rispettare e voler bene ai poeti e quindi bisogna essere generosi bisogna essere generosi beh insomma io a Roma so quello che se organizza gli eventi poi ritrovano anche la bottiglietta di 33 centili dell'arco vicino a per guadagnare quanti fero al palco di condividere spazi di ritorno di spazi perché dovete andare e avere ecco però tante persone se lo dimenticano bisogna farsi promotori di se stessi bisogna anche cercare di frequentare gli ambienti per capire dove posizionarsi che cosa che cosa il termo 4 è tentativo di fare anche di un libro di poesia qualcosa di diverso perché con rispetto per Sindagi che leggo tuttora di autori importanti come anche di persone di nuovi autori anche amici amiche poeti e poetesse ma io il tentativo era proprio di fare qualcosa di assolutamente diverso credo di esserci riuscito l'hai fatto perché ha 15 anni e non li dimostra io farei con Ray la terza pausa e poi ti faccio ci abbiamo verso la parte finale con due domande una curiosità e una domanda un po' più corposa quindi andiamo con con le fusion basso vamos Marco sei all'ascolto di Radio Giano Public History la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura Radio Giano Public History ci puoi trovare su spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it Radio Giano Radio Giano Ben tornati a Vite Parallele finale di puntata ospite Coni Ray artista del nostro tempo allora Coni Ray leggo pagina 127 del tuo interno quattro ma anche nostro questi versi è vero quel giorno avere una pistola mi dava sicurezza ma qualcosa quel giorno fuggiva da me con la destrezza di un borseggiatore in fuga tra la folla in un momento non sospetto ho saputo che avevo ucciso un poeta sì poeta alla vigilia della sua prima e faticosa pubblicazione non avrei mai immaginato che un giorno sarei stato capace di uccidere la poesia da allora in cella leggo solo poesie trovo questi versi meravigliosi sono veramente un film perché ho immaginato la scena tu questa scena e le altre Enrico da chi ti piacerebbe fossero riprese hai un regista preferito al quale affideresti questo copione allora diciamo che lo stesso diciamo interno 4 nel comporre versi insomma partendo da Warhol partendo da Warhol per un semplice motivo perché Warhol i primi film che lui dirigeva e di cui era produttore perché poi dopo era solo produttore e la regiera era di Paul Morris i primi film di Andy Warhol erano fatti in questo modo c'era una camera su un cavalletto quindi una camera fissa e alcune persone che frequentavano la factory diciamo dei personaggi venivano ripresi da lui e loro davanti alla camera parlavano di sé parlavano di altro eccetera questo diciamo è stata l'idea iniziale poi diciamo per alcune atmosfere sicuramente mi ha sempre affascinato e colpito il cinema di Dean Wenders io mi ricordo quando uscì nell'87 88 il cielo sopra berlino Wings of Desire il titolo originale lo andai a vedere più di una volta perché mi ha completamente affascinato questo film la poetica e ancora una volta come in altri film italiani la mancina del bianco e nero insomma una serie di cose una berlino che ancora viveva separata da un muro e quindi diciamo che quindi Warhol e Wenders ma Warhol c'è esiste ancora nelle sue opere e in quello che ci ha lasciato in Wenders c'è ma diciamo che diciamo che il poemetto ha questo intento di essere un film da legge tra i versi ma posso dire che l'interno 4 è stata per due date nel 2000 credo 11 è stato fatto una lettura teatrale in un piccolo teatro a Roma a Trastevere e lì ho avuto un'emozione particolare tornando alla regia non lo so a chi darei la regia anche perché in questo periodo io siccome ho prodotto un video di poesia dal titolo epilogo epilogo appunto della lirica che ho letto prima anche perché era la lirica che meglio si prestava per un video di poesia che non doveva durare più di tanto come minutaggio rifacendo un po' la logica dei videoclip musicali una canzone dura circa 4 minuti e quindi insomma sto partito da lì io adesso sto lavorando già da un po' di tempo a un mio progetto per un mio primo lungometraggio che è ispirato a una persona realmente esistita che facevano loro particolare ma che era anche fotografo e poeta quindi non so non immagino la regia di qualcuno per interno 4 anche perché la mia la mia come dire cifra è quella che ogni cosa che ho potuto realizzare perché è già un successo realizzare le cose sono progetti a sé stanti non c'è la volontà da parte mia di come dire fare il verso a me stesso quindi ripetermi no ho proprio una necessità di passare a cose diverse pirogando diciamo così il mio poeta come come ci insegna e lo dico con umiltà Pasolini Derek Jarman Tony Harrison del cinema quindi diciamo che sto pian piano dopo l'esperienza di Pio che è stato un un short film nato come videopoesia autoprodotto con la complicità di persone che hanno collaborato gratuitamente insomma partito per poter partecipare alla selezione di un festival importante di videopoesia che si tiene ogni due anni dal 2002 che è lo zebra poi il Dreamfield Festival di Berlino poi via via insomma ho organizzato delle proiezioni ha vinto anche un premio nel 2020 anzi oggi è il giorno in cui nel 2020 c'era la premiazione però non in presenza perché eravamo ancora nel pieno della pandemia quindi ho ricevuto un premio al concorso nazionale all'estetica è il tuo mese ottobre insomma ma ottobre ciclicamente posso dirti una cosa in effetti ottobre a parte il fatto che il mese in cui sono nato tra pochi giorni il 19 ottobre sarà il mio sessantunesimo compleanno però sono a bilancio ascendente sagittario nel segno nello scopo cilese sono una tigre comunque questa è una curiosità comunque no ottobre ha sempre rappresentato ciclicamente in media ogni 5 o 10 anni un momento in cui c'è nella mia vita un cambiamento cioè da un punto di vista come dire professionale non che intenda fare poesia a una professione però diciamo che dal momento che sto lavorando il 2019 alla realizzazione di un film adesso tutto è pronto per promuoverlo promuovere il progetto ai produttori quindi sto in una fase insomma in cui mi farò promotore di questo progetto di questo mio film quindi diciamo che nel mio percorso c'è un libro che è internoquatto un film da leggere tra i versi che per qualche modo considero un po' il mio primo film c'è Epilogo che è uno short film nato come videopoesia e mi auguro e mi adopererò per realizzare un primo e unico lungometraggio nel frattempo ci sono state altre cose ho continuato a comporre ho organizzato eventi ho promosso anche artisti di arti contemporanea insomma l'archivio mio che esiste non per archiviare ma per documentare è un archivio che può testimoniare dal 97 ad oggi tutto quello che ho potuto fare ripeto riuscire a fare queste cose è stato il vero successo pensare di fare le cose per avere successo è partire col piede sbagliato il successo è riuscire a realizzarle per realizzarle per realizzarle bisogna metterci tutto se stesso bisogna essere credibili nel senso attingere dalla propria realtà dalla propria esistenza e dall'esistenza degli altri per raccontare delle storie che possono in qualche modo fare breccia nella mente nel cuore nell'anima del lettore dello spettatore se non è credibile quello che uno fa e quello che uno è la storia o le storie che uno vuole proporre quindi i grandi insegnano nella letteratura nella poesia nel cinema basta come dire prendere degli esempi e cercare di assorbire l'esperienza dei grandi e trasformare quel modus operandi in qualcosa di proprio magari mettendoci qualcosa in più perché come diceva Andy Warhol visto che nell'arte c'è stata tanta produzione allora il come dire l'impegno maggiore è quello di inventarsi un tratto in più rispetto a quello che c'è stato prima allora diciamo che per il tratto in più bisogna inventarsi qualcosa di diverso da quello che di cui che abbiamo visto di cui abbiamo soffrito da lettori da spettatori da ascoltatori no assolutamente assolutamente d'accordo io con i rei che dire grazie per la tua presenza vite parallele noi ci abbiamo messo tutto con i rei avete scoperto un artista poliedrico un bravissimo poeta ti auguro appunto di poter realizzare questo lungometraggio di vederlo sui grandi schermi quindi quando vuoi noi saremo qui per accogliere questa nuova opera perché noi ci occupiamo di tutto a vite parallele siamo lieti di scoprire nuovi percorsi e nuove storie quindi io ringrazio con i rei ricordo il suo interno quattro liriche cinematografiche grazie ancora con i rei ecco ti ringrazio tantissimo Katia Simone per l'attenzione la disponibilità e per aver apprezzato della lettura interno quattro questo film da leggere vedere tra i versi vorrei solamente aggiungere una cosa che il libro nel 2008 fu pubblicato in 500 copie non a caso perché da editore indipendente io mi sono comportato come un editore cioè nel senso che ho fatto il deposito legale cioè quando si produce si pubblica un libro in 500 copie come minimo allora si può fare il deposito legale quindi una copia alla biblioteca nazionale di Roma un'altra copia perché è previsto così alla biblioteca nazionale di Firenze e poi ci sono delle copie anche non solo in visione ma in prestito presso alcune biblioteche di Roma e non solo non solo Roma e non solo in provincia e quindi chi vuol visto che l'ho prodotto 500 copie anzi mi è arrivato a Roma per sbaglio altre 75 in più che ho utilizzato al meglio ovviamente ma alcune copie ce l'ho poche ma ce l'ho chi fosse interessato può scrivere a conirei 009 chiocciolagmail.com quindi ripeto conirei 009 chiocciolagmail.com ovviamente conico l'hypion certo come raggio inglese ma lo faremo presente quando oppure mi può trovare anche contattare attraverso messaggi sul mio profilo facebook quello di di conirei che è quello per l'attività appunto di poeta performer e di regista esordiente che sta lavorando a realizzare un primo lungometraggio perfetto perfetto allora io saluto i nostri ascoltatori risaluto ancora conirei grazie Marco Lodi alla regia noi ci risentiamo presto con un altro grande e bravo poeta baci e abbracci dalla vostra Katia Simone vamos Marco con la sigla grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.